Il governo con la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, la Nadef, ha assunto l'impegno formale di rinnovare il super bonus al 110% anche nel 2023 e vi sono chiari i motivi per pensare, a ragion veduta, che venga prorogato anche nel 2024. Ma che fine faranno le altre agevolazioni fiscali? In particolare, ed è questo il tema che tratto oggi, quali sorti aspetteranno al bonus pacciate al 90%? Te ne parlo in questo video. Ti ricordo, se non lo hai ancora fatto, di iscriverti al canale, attiva la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video e metti un bel like. Ma non perdiamo tempo e iniziamo subito! Vi siete mai chiesti quanti bonus e agevolazioni sono attivi nel 2021 e fruibili? Ve li dico subito! Bonus pacciate, bonus ristrutturazione, bonus mobili, bonus elettrodomestici, bonus verde, bonus casa, ecobonus, superbonus 110, bonus caldaia, bonus zanzarieri, bonus idrico, bonus acqua potabile, bonus luce e gas, bonus sociale, bonus prima casa under 36, bonus affitti, bonus affitto studenti, bonus figli universitari, bonus bebè, bonus nido, bonus nascita, bonus babysitter, bonus mamma domani, bonus mamme single, bonus centri estivi, bonus genitori separati, bonus matrimonio, bonus animali domestici, bonus vacanze, bonus terme, bonus pagamenti elettronici, bonus scontrini, elettronici, bonus auto e bici, bonus mobilità, ecobonus auto usate nuove, bonus acquisto auto con rottamazione, bonus tv, bonus rottamazione tv, bonus occhiali, bonus smartphone, bonus libri, bonus cultura, bonus docenti, bonus cinema, bonus covid, bonus sanificazione, bonus affitto imprese, bonus smart working, bonus collaboratori sportivi, bonus 2400 euro stagionali, bonus lavoratori dello spettacolo, contributi spettacolo viaggiante, bonus 1600 euro stagionali, bonus lavoratori agricoli, bonus RDC perché si mette in proprio, bonus 100 euro naspi, bonus assunzioni giovani, bonus disoccupati, bonus donne disoccupate, fondo casalinghe, bonus partite IVA, bonus edicole, bonus resto al sud, bonus pubblicità e bonus chef. Un fiume di denaro per sostenere benefici senza ombra di dubbio utili. Di tutto questo elenco è cosa certa che nella Nadefe presentata alla Camera e al Senato e approvata dal Consiglio dei Ministri si legge l'intenzione di volere riservare nei prossimi anni un finanziamento valido a tenere in vita il super bonus a 110% fino al 2025. Del resto questa volontà era già emersa nel test del PNRR. Ovviamente questo non potrà avvenire in un'unica soluzione, motivo per il quale ci si appresta a leggere nella finanziaria il rinnovo del super bonus per il 2023, la quale dovrà essere approvata entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 aprile 2022 nell'ipotesi di gestione in prorogazio. Il fine del governo è quello di promuovere la riqualificazione energetica degli edifici mantenendo in vita questo obiettivo per il triennio che va dal 2022 al 2024. Non dimentichiamoci che questo incentivo e le finalità previste sono requisito atto a dimostrare all'Europa come l'Italia intenda gestire i fondi derivanti dal Recovery Fund. Tra gli obiettivi enunciati dal PNRR vi è l'intenzione del governo di incentivare la riqualificazione energetica per almeno il 50% del patrimonio edilizio nazionale entro il 2025. Nella Nadef approvata dal Consiglio dei Ministri non troviamo nulla di utile che possa farci ben sperare che il bonus facciate e la marea dei restanti bonus possano essere ugualmente rinnovati nel 2022 al punto che oggi l'unico dato certo è che il bonus facciate terminerà la sua vita al 31 dicembre 2021. Qualsiasi analisi attuale non può essere altro che frutto di valutazione di massima e di logica in quanto solo la finanziaria 2022 ci svelerà le sorti dei restanti bonus. Detto ciò ragionando per logica il super bonus al 110% percorre gli obiettivi e gli impegni assunti dal governo verso l'Unione Europea dimostrando di fatto di spendere il denaro non per una valutazione meramente estetica come ad esempio il bonus facciate rispetto alla riqualificazione energetica nella quale la riqualificazione estetica è complementare. Il Ministro dell'Economia Daniele Franco ha parlato della possibilità di estendere l'incentivo insieme ad altri bonus e dirizi stando però sul vago per far ripartire il settore delle costruzioni anche se si tratta di uno strumento molto costoso che non è sostenibile alla lunga. Ha inoltre affermato che per il super bonus e per gli altri bonus stanno valutando in che modo possano e debbano essere prorogati. Mentre per il super bonus al 110% possiamo dormire sostanzialmente sono i tranquilli per il suo rinnovo e vi compreso a cessione del credito sconto in fattura non possiamo essere certi che questo avverrà in ugual misura per i restanti bonus e vi compreso il bonus facciate. I pareri alcuni dei quali illustri che reperiamo in rete ad oggi sono contrastanti. Viecchi decanta la necessità di rinnovo del bonus facciate al 90% anche per il 2022 sostenendo che sia fondamentale per contribuire alla ripresa economica del nostro paese e chi facendo i conti in tasca allo stato individua come unica strategia quella di eliminare molti bonus ad oggi noti tra i quali il bonus facciate per convergere il denaro sul più necessario super bonus. Troviamo che in virtù di dichiarazioni da tempo emerse da parte degli addetti ai lavori suppone un'armonizzazione di molte aliquote ora differenziate tra il 50 e il 90% in un'unica maxi aliquota del 75%. Il bonus facciate al 90% rappresenta un'aliquota corposa che certamente ha contribuito prima ancora del super bonus alla ripresa economica e pare difficile pensare che venga eliminato anche in virtù del fatto che il super bonus di riqualificazione energetica non necessariamente deve essere adottato su tutte le facciate del fabbricato e dunque le facciate nelle quali non sarà ad esempio adottato il capato termico se corrispondenti ai requisiti legislativi potrebbero essere ripristinate nell'estetica dal bonus facciate al 90%. Tra i tanti lavori contemplati nel bonus facciate sempre collegati all'intervento di rifacimento delle pareti esterne degli edifici trovano spazio i lavori di tenteggiatura, pulitura degli intonaci così come qualsiasi intervento riguardante balconi, fregi e ornamenti. Insomma un bonus importante per il quale è difficile pensare che non venga rinnovato come in realtà pare emergere oggi da numerosi articoli che in prevalenza lo danno per condannato. In assenza del bonus facciate per il 2022 cosa potrebbe accadere? Con molta probabilità tornerà alla ribalta il bonus casa nel quale potrebbe essere introdotto il tetto massimo di spesa di 48 mila euro con una detrazione del 36% rispetto all'attuale plafond massimo di 96 mila euro con una percentuale di detraibilità del 50%. Ma l'esecutivo potrebbe anche percorrere la strada dell'accorpamento del bonus casa sotto un'unica liquota come proposto dal capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini in modo da far coesistere due grandi agevolazioni. Il super bonus al 110% e il bonus casa magari al 75%. L'unico dato certo al momento emerso è che il bonus facciate scadrà il 31 dicembre 2021 e nel caso tu abbia in corso i lavori affrettati a terminarli oppure pagali comunque entro il 31 dicembre 2021 anche se non terminati fidandoti della ditta esecutrice che dovrà terminarli nel 2022 pur avendo già riscosso tutto come stabilito dall'agenzia delle entrate nell'interpello 903 521 del 2021 del 7 luglio 2021 con il quale un contribuente chiede maggiori lumi sulla fruizione del bonus facciate al momento in scadenza appunto il 31 dicembre 2021. Il contribuente specifica che l'assemblea condominiale sta valutando la realizzazione di un intervento che rientrerebbe nella detrazione del 90% prevista dai comma 219 224 della legge 27 dicembre 2019 numero 160 ovvero la legge di bilancio del 2020. Nella rappresentazione dei fatti l'interpellante rileva che con ogni probabilità l'intervento non verrà terminato entro il 31 dicembre 2021. La domanda è semplice posto che si opterà per lo sconto in fattura quali sono le regole relative alle spese che è possibile portare in detrazione allo sconto in fattura e allo stato di avanzamento lavori. L'agenzia delle entrate chiarisce che il condominio potrà beneficiare del bonus facciate nel rispetto di tutti i requisiti e adempimenti per tutti i costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione agli interventi di recupero delle facciate avviati anche se non terminati laddove il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31 dicembre 2021 indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti. Detto ciò auspicandoci che il governo tenga in considerazione l'importanza del bonus facciate il quale assieme al super bonus rappresenta uno strumento di importante contributo per la ripresa economica del paese non ci resta che attendere quanto meno la bozza della prossima finanziaria per comprendere le sorti di un bonus tra i più importanti mai varati nel nostro paese. Spero che il video sia stato di tuo gradimento se non lo hai ancora fatto ti chiedo di iscriverti al canale questo mi dimostrerà il tuo interesse per i contenuti che sto continuando a produrre. Per il momento da Diego Santi è tutto al prossimo video